Ciao nipotini! Ciao nonna! Cosa si mangia di buono oggi? Abbiamo una certa fame... Sì, effetti... Nonna, ti premo, aiutaci! Nipotini! Sono 50 giorni che non mangiamo! Abbiamo bisogno di vivere! Moriremo! Oh mio Dio! Cosa posso fare? Butta la pasta! Prima che sia troppo tardi! Coraggio, buttala! Ma ve ne butto un quintale! Nonna, mi presti l'ombrello? Nonna, mi presti l'ombrello? Eh? Nonna, mi presti l'ombrello? Ti piace Antonello? L'ho sempre pensato! Cosa? No, non mi piace Antonello! L'ombrello, l'ombrello! Tranquillo! Non ci sono problemi! Ho tanti amici gay! Allora nonna, se vuoi chiamare tua cugina Piera, basta che vai su rubrica e schiacci questo pulsante qui! Cosa? Cosa? Nonna? Cosa? 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 Oh Dio! Ma come si chiama? Eh? Non mi ricordo! Signora Bruna, per sei chili di pasta, qual è il nome di suo nipote? A. Daniel B. Manuel C. Samuel D. ARIEL! Ancora! Non sono la sirenetta! Daniel! Non Ariel! Daniel! Negickly! Iperdoni! Giangali! Sì! Per wielu日语Dagini! Let's let it all go! Invertega to inerritoriasa! Grazie a tutti. Grazie a tutti.